Ciao a tutti, mi trovo adesso in piazzetta Corpus Domini, del miracolo di Torino ve ne ho già parlato, ma in questa piazza si ammira un palazzo molto particolare. Per farlo bisogna alzare un po' lo sguardo e si potrà notare come all'angolo della via, palazzo di città, si trovi un piercing. Questo appunto è il famoso palazzo col piercing, in realtà naturalmente è un'opera, un'installazione d'arte contemporanea, si intitola Baci rubati, è dello studio Clio Strat, che con Levi hanno realizzato negli anni 90 questa opera, che doveva essere temporanea ma è piaciuta talmente tanto che è rimasta. La sua particolarità è che da un lato del palazzo c'è una goccia di sangue rossa e dall'altra blu. Le due anime di Torino, l'anima nobile e l'anima invece popolare. Se vi capita di passare da piazza palazzo di città, certamente vale la pena osservare anche questa curiosità. Ciao!